Oggi è San Faustino, San Faustino, protettore, tu sei il mio più grande amore, viva, viva San Faustino, protettore dell'anima mia, viva, viva San Faustino, protettore del mio cuore. Ma sapete che è un bucciotto così? Ma che bel coro. Dobbara una pasca tappusti scatramato a smoghelele bombè. Olè! Io sono il conte mazzanti cervelloni che vien dal mare in palle secche. State calmino voi. Oh no, ma nulla, sta calmo. Che dati cazzotta da tutti. Nullano. Voi siete il bulletto. Fermate Dio. Voi siete il bulletto, siete? Venga. Oh, veni a spingi che te do. Ma la sto aiutando. Te do un cazzazzo non te la faccio. Ma la sto aiutando. No, la violenza no. Sesta di cazzo. No, le parolacce no. La violenza no. Ma comunque si accomodi, scenda, venga. No, che tu mi spingi. Ma che spingo? Venga, l'accompagno. Venga, si accomodi. Non dai calci. Si accomodi. Fermo, porca. Oh, si è steso. Si è steso il peluche. Si è steso l'orzacchiotto. Ma... Ma... Sta guardare. Sta guardando la formazione della Nazionale Morti. Sta guardare i convocati. Sta guardare i convocati della Nazionale dei Morti. Quali ce l'hanno chiamato? E allora vediamo, è il commissario tecnico. Vediamo chi ha convocato al cimitero. E vi mastica. Sta a masticare. Si, sta a masticare. Scusa. Scusi. Ma tu c'è quella cosa di lì e mangia la porchetta? Sta a masticare, lo vedi? Che sta a masticare. Mantiene schife. No, no. C'è la... E vi mangia la porchetta? Mantiene schife, è scroccata anche oggi. Eh? Vergognavo. Io so io. Vergognavo. Vergognavo. Il commissario tecnico dai Morti. C'è la convocazione? Oh. Oh no. C'è la miseria. Anche a Chiarone? Voi vi facete sempre i fatti miei. Voi vi facete. Eh? Voi vi facete... Chi è questo? Voi siete una carognetta siete. Di chi è questo? Di chi è? Non so di chi è. Di chi è? No. È del maione, mi sa? Mi sa. Io voglio sentire... Se c'è i trick e track, fa sentire... Si è rotto. Fa sentire... No, non ce l'ha oggi. Tu, quel che pienta le mani, scocci. Tu, quel che pienta le mani, rompci. Ma mi è rimasto sulle mani. Ma tu hai ragione a qualcuno. Ma questo maione è quello dal mercato, le compra da cinesi. Le compra il maione. Eh, non capito. Ma comprali tu, no?